Sono molto orgogliosa, sono felice di questa iniziativa che è un'iniziativa appunto come dicevi di donne e come diceva di donne da mare e siamo al secondo anno, devo dire ha avuto molto successo, hanno aderito quest'anno, l'anno scorso eravamo pochini quest'anno hanno aderito altri stabilimenti balneari Quanti più o meno aderiscono? Siamo cinque quest'anno, compresi, ci tengo a dirlo perché mi sembra un successo Il meccanismo appunto nasce dall'idea che il mare, il concetto è questo, il mare è di tutti per cui in tempi anche di crisi come sono i nostri abbiamo avuto l'idea di proporlo anche alle famiglie diciamo economicamente disagiate proponiamo un ingresso, l'ombrellone chiaramente sociale da cui prende il nome, lettini tutti i servizi che offre una spiaggia come se fossero in realtà clienti paganti insomma sono molto orgogliosa perché vengono mamme spesso sole con bambini l'anno scorso ho avuto una mamma con una bambina che ha fatto amicizia insomma per me è una cosa che mi fa molto piacere, sono orgogliosa di questa iniziativa